Diago Morta, Sneijder con il tiro, a giro! Storlari si presenta così, Wesley Sneijder! Fuori tempo, nettamente Lucio, e allora Pato a loro parte, accompagna Romantinio, Pato in mani di rigore, Pato dietro Romantinio, Pato su un uomo, Pato sul fondo! Comincia Diago Morta, ecco le cose, fuori triangolo, Davidito, che si gira, dentro ancora per Diago Morta, Giorgio! Pato, 1-0! Edo accelera nel più veloce di andare in rigore, Edo cambia fuori Gattuso, balla, calcio di rigore, Giallo! Edo, Milito, 2-0! Alla verso il centro, onesta, Lucio! E Storlari riesce a bloccare il ballone! Milito ancora dentro, Moico! Edo, 3-0! Quattro difensori contro tre attaccanti, Sneijder con il sinistro, Palla sul fondo! Stankovic! Prova lui, Deja! Stankovic! 4-0! Ancora, va via, Edo con il destro! Su fondo! Calcio, va via! Hora è, calcio in butti! Ewa cho'da... Cau'dé! C'è l'animaforma!